bella ragazzi ci sono in questo video oggi giochiamo a brawl star avete spollificato un po troppo mi sono arrivati 6 like invece di 3 volevo dire al posto di 3 sono arrivati 6 e 3 più per quello grazie mi rimettiamo per il sostegno per diventare questa partita arriviamo a 4 dai si dai non è morto ragazzi arriviamo a 5 10 like ora è la vittoria mia 17 di energia dai polliciate mamma mia prima partita già vinta da una casa spero che vincere anche la seconda perché sennò almeno secondi ma dove che schifo rosa è davvero con le prime scarpe è davvero regata una 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 wow ma va a spambang era la mia kill ladra di kill di gamba di kill no si si raga fammi rinascere se andate donna sblada fammi rinascere se andate donna fammi rinascere ma scarsa fammi rinascere ti dico brava banno seconda vittoria reale dagli dai ragazzi spaliccate solo per tutto sto qui dai forse oggi arriviamo a 850 coppie dai forse un giorno ma non oggi wow mi sono auto spento wow che bravo sono troppo intelligente auto spento auto spento adesso vi lascio un commento in descrizione il canale che abbiamo portato io da abri non non grazie non grazie la va ci ciao io 해�re bene no come non mi rimai che dai mi me stuva solo cari aumento ah putz no necesito a mai bravo avevo la mira automatica no no che bullo con bullo fra hashtag due bini ma è un due bini no anche maledetto gioco maledetto qui vero che gioco tarocco l'hanno fatto il giorno sbagliato con i brawler sbagliati io non so perché mi danno sti compagni incoglioniti dammi uno di questi almeno no ma va mamma si può ciao mannaggia alla miseria ragazzi mamma mia sti squadro bui oddio vabbè l'ho bloccato dimmi che non si sta muovendo perchè il suo allo ciotola perché se no io mi lascio ma io lascio che dopo non mi parla non mi parla che sto di certo per rinforzare un po' mandagli no 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 già ve lo dico mi avviso meledetto stessa meledetto stessa meledetto stessa ma io te lo la unicì bravi 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 lo sapevo un bullo sapevo due perse e due vinte no tre perse e due vinte solo perchè ho degli scompagni che non fanno giocare ragazzi iscrivetevi al canale arriviamo a 10 like no 10 no 6 like e porto un nuovo video di Brawl Stars così almeno continuiamo sta serie e ok domani e dopo domani potranno giocare a due fan con me iscrivetevi al hashtag gioco posso e potranno giocare e venire ovviamente registrarò ci vediamo nel prossimo video arriviamo a 6 like va bene e porto un nuovo video sabato e domenica ricordatevi e poi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao